Allora, questa sera sul TG1 ho visto la presentazione del museo di Treviso, il museo Il Bailo a Treviso, vado alla ricerca, eccolo qua, per fortuna. Grazie a tutti. Andiamo al rover. Treviso.it Come arrivare? Andiamo a vedere. Treviso, la carta geografica, può interessare. Bene, facilissimo. Musei di Treviso. Edifici storici, facciamo una... Edifici storici, palazzo dei 300. Mura e porte. Storia di Treviso. Chiede. Chiede. Eventi. Settembre del 2015, eventi e treviso. Bene. Immagini. numeri utili. Numeri utili. Qua abbiamo tutto l'elenco, se vogliamo. Contatti. E notate qui. Pianta della città. Immagini di Treviso. Immagini di Treviso. Bene. Io direi di chiudere con la storia. Gurenelli utili. Bene. Bene. Chiudo e saluto tutti.